Netto, deciso e corposo. Evoira, il primo profumo tutto molisano, fatto con erbe rarissime ed uniche che crescono solo nella zona tra Sant'Elena Sannita, Frosolone e Civitanova del Sagno. Un'essenza elegante e di classe, adatta a uomini forti e determinati, ma anche a donne decise. Ieri la presentazione al pubblico al Museo del Profumo di Sant'Elena Sannita. Un profumo che per noi santelinesi non è solo un semplice profumo, un ottimo profumo. È un profumo che racconta il passato, rappresenta il passato della comunità santelinese perché ha all'interno di sé i sacrifici che i nostri antenati hanno fatto prima come arrotini, poi come profumieri. Rappresenta il presente perché con la sua essenza, con il suo vestito, con la sua bottiglia cerca di raccontare quella che è Sant'Elena, Sant'Elena ed ovviamente non solo Sant'Elena ma un po' anche tutto il Molise. Ed è il futuro perché dà una speranza e contemporaneamente un'opportunità a tutta la comunità, e ripeto non solo a tutta la comunità santelese ma anche alle comunità limitrofe e al Molise, di crescere, crescere anche economicamente. È una scommessa vinta, una promessa mantenuta e un sogno realizzato. Sant'Elena Sannita, erede di un'antichissima tradizione profumiera, ha realizzato questa fragranza tutta made in Sant'Elena con un progetto che ha coinvolto l'amministrazione comunale, l'associazione La Rota e la fondazione Il Cammino del Profumo. Un percorso un po' difficile, un po' duro, un po' contrastato, però finalmente l'anno scorso, nel 2014, agosto 2014, abbiamo raggiunto il primo traguardo, quella dell'inaugurazione del Museo del Profumo. E l'anno scorso abbiamo promesso un'altra cosa, subito, entro poco tempo, si sarebbe realizzato il profumo di Sant'Elena, il primo profumo di Sant'Elena, e questo è stato invece fatto realmente entro pochissimo tempo, il nome è La Voira. Abbiamo voluto onorare il nostro territorio, il nostro paese d'origine, dei nostri genitori, soprattutto i nostri nonni, proprio fondando questa società. Quale migliore occasione per creare un nostro profumo, un profumo che, diciamo, riportarsi a naso le nostre fragranze, quelle che sentivamo anche noi da bambini, infatti poi la fragranza è composta anche con note del territorio.